Noi siamo da decenni di fronte a una diffusione epidemica dei disturbi alimentari, soprattutto nelle sue due forme principali, cioè l'anoressia e la bulimia. Se considera che il primo studio sull'anoressia di Mara Selvini Palazzoli della prima metà degli anni Sessanta era su 15-20 famiglie, oggi noi 15-20 famiglie le vediamo in una settimana in un'ambulatorio che si occupa di queste patologie. Quindi c'è stato un allargamento epidemico. Perché? Fondamentalmente secondo me per due ragioni. La prima ragione perché uno dei miti principali del nostro tempo è il mito dell'immagine del corpo. E dunque l'icona del corpo magro si impone come icona dominante e spinge molte giovani verso l'anoressia, diciamo così, per assimilarsi a questo corpo senza grasso, senza perfetto, autosufficiente. E ripeto, è un mito, anzi direi una religione del nostro tempo, quella del corpo come appunto imago autosufficiente. Il secondo grande mito è il mito del consumo dell'oggetto. In fondo il soggetto bulimico che cosa fa? Mangia tutto, divora tutto. E' il consumatore per eccellenza, no? E noi viviamo in un tempo che io ho definito un totalitarismo dell'oggetto, in cui non solo l'oggetto cibo, noi viviamo nel tempo del dominio, del potere dell'oggetto e il soggetto bulimico non fa altro che consumare in modo indifferenziato oggetti, non solo il cibo. Certo, il cibo innanzitutto, ma la bulimia è una postura diffusa, generalizzata del nostro tempo. Siamo tutti, come direbbe Gaber, che già parlava nella seconda metà degli anni 70 di potere dell'oggetto. Siamo tutti polli d'allevamento, no? In fondo come vive un pollo? Vive riempiendosi di oggetti, riempiendosi di cibo tutto il giorno. E noi siamo un po' così, siamo dentro un contesto di nuova schiavitù, dove la schiavitù non passa più attraverso la sopraffazione, ma attraverso il consumo, attraverso una dipendenza che ci lega all'oggetto, che può essere l'oggetto tecnologico, l'oggetto bottiglia, l'oggetto droga, l'oggetto cibo, l'oggetto immagine del proprio corpo. Noi siamo in questo tempo, diciamo così, dove il potere è dell'oggetto.